Ma che stai? Mamma! Mamma! Ma la do... Ma la do... Ma la do... Ma il casino ma fa male! Ma tu hai ragione! Fra poco ci mettiamo al tavolo, succede che ti passano l'appetito e non ti mangi il cucinante! Chi? Chi? Oggi è nato, chi le deve uno stombo che i pierre? Chi le è capace di ci fa stare una guante di cima? Si si, è di buon appetito! No no no, è fammista! Eh, vabbè, mangiti questa guante! Poi avrai qualche altra cosetta che ti aggerisce! Ti voglierei pure questo! Che porcheria! Un ragazzo che mangia dalla mattina alla sette! No! Su, mamma! C'è rotta! Uy! Uy! Voglio mangiare! Cosa? Drink 3 fatta tu! Uy! Uy! Stai a porto tuo! Uy! 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 Uy!